L'Atletica Toscana di Montelupo Fiorentino, la Polisportiva Cerretese di Cerreto Guidi e la Florenzia Rugby di Firenze sono le associazioni vincitrici per la Toscana della Call to Action del premio Estra per lo Sport. La Multi Utility dei Territori protagonista didacta, stand unico per Estra, alia Publiacqua e Revet alla Fiera sull'Innovazione nel mondo della scuola che si è svolta a marzo a Firenze alla Fortezza d'Abbasso. Grande partecipazione al CONI per le premiazioni del premio giornalistico Estra per lo Sport e raccontare le buone pratiche. Sono stati più di mille i servizi selezionati tra carta stampata, radio e tv, web e blog. Due nuovi chilometri di tubature sulla via Francigena. Sono terminati i lavori di Centria, la società di distribuzione di Estra, per estendere la rete gas di Monteriggioni, il comune noto per il suo bel borgo medievale. Grazie a tutti.